Tutti i suoi mani gente, tutti i suoi mani, dai ragazzi, qui in cima che già lo facciamo, tutti i suoi mani. Tutti i suoi mani, dai ragazzi, qui in cima che già lo facciamo, tutti i suoi mani, dai ragazzi, qui in cima che già lo facciamo. Il nazionale, il nazionale, il nazionale, il nazionale volete. Il nazionale, il nazionale, il nazionale volete. C'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Amici sandoriani, buonasera. Volevo salutarvi con tanto affetto, i sandoriani che c'erano 25 anni fa e quelli che 25 anni fa non c'erano, non erano ancora nati. Io credo che questa sia un'idea meravigliosa, quella di festeggiare questo storico studetto del 91. Io credo che un grande futuro si costruisca anche preservando il passato, ricordando il passato, le cose belle che sono state fatte. Io mi ho un'idea. Purtroppo non posso essere con voi questa sera. Avrei voluto riagracciare i miei compagni di squadra, che sono un po' come dei fratelli, con cui ho passato dei momenti meravigliosi, di una giovinezza incredibile. Abbiamo condiviso gioie, dolori, sconfitte, soprattutto tante vittorie. Abbiamo vinto uno studetto in modo molto originale, divertendo e soprattutto divertendoci. E poi naturalmente non so cosa avrete da dato per abbracciare i tre dei grandi artetici di quella impresa fantastica. Michelin, Hostel, Paolo Borea e naturalmente il nostro Messia, il nostro grande, Paolo Borea. Io credo che stasera stiamo lassù, se lui che è tornato a un dato, lo che sono guardato, giocava a Cibulla e magari sorridono vedendo che ci ne hanno fatto i capelli di molti di noi. Prima di salutarvi volevo anche dedicare un pensiero a quelle persone, a quei professionisti, a quegli eroi che hanno lavorato tanti, dietro le quinte, di cui si è sempre parlato troppo poco, hanno lavorato nell'ombra, giardinieri, magazzinieri, massaggiatori, autisti, luoti, dirigenti, accompagnatori e tutti i vostri generali che hanno lavorato tanto e sempre di loro probabilmente lo studente non avrebbero venuto. E poi volevo anche naturalmente ringraziare voi tutti per l'affetto e per il sostegno che mi avete dato. indossare la maglia della Sampdoria è stato un onore e io devo dire che da parte mia ci hanno messo a porta ditta e ci hanno messo veramente l'amore. Grazie a tutti.